È il tuo compleanno tra quattro giorni, il 3 settembre, e non vedo l'ora. Ho passato molto tempo cercando di immaginare cosa potevo regalarti, ma in vano. Puoi per favore dirmi cosa potrei fare per te per questo compleanno? Vedi, l'entusiasmo per il compleanno è probabilmente quando hai 16 o 18 anni, perché forse otterrai la tua patente, sei indipendente. Siccome hai compiuto 18 anni, tua madre non può chiederti dove sei andato. Dov'eri tutto questo tempo? Perché ho 18 anni. Quindi quelli erano compleanni entusiasmanti, forse. All'epoca non notavo nemmeno quale giorno fosse il mio compleanno, perché sarei stato da qualche parte e non l'avrei nemmeno saputo. Ora, i compleanni, oltre una certa età, sono come un conto alla rovescia per il tuo decollo. Quindi, cosa farai? In ogni modo, lasciami farne buon uso, visto che vuoi fare qualcosa. Mi interessano le persone che vogliono fare qualcosa, non per me. Ma sei interessato a fare qualcosa, ora che lo chiedi. Viene dall'India o da qui? Non lo sai? Ok. Bene, quello che potresti fare è il 3 settembre. Stiamo vedendo come renderla la giornata della rivitalizzazione dei fiumi. Il Rally for Rivers è stato lanciato il 3 settembre. Era, sai, era il mio piano per evitare le feste di compleanno. Covery Calling è stato lanciato il 3 settembre. E, covery calling, se hai seguito saprai, ero fratico fino alle ossa ogni giorno, a causa delle forti piogge e della moto. Quindi il mio compleanno è stato un compleanno davvero fratico l'ultima volta. Perché eravamo a Kurg e il monzone ha raggiunto il picco in quel momento. Quelli di voi che non hanno visto un monzone, i gati occidentali, un giorno dovete vederlo. È come strati di pioggia. Come letteralmente... Sai la parola diluvio? Molto appropriata in quella situazione. Non è come gocce di pioggia che cadono. Sono come strati di pioggia. E stavamo guidando in quelle condizioni. È stato come tornare all'inizio dei miei vent'anni, quando guidavo sempre in quel tipo di condizioni. In ogni caso. Quest'anno spingiamo verso questo, per istituirla lentamente in quanto giornata della rivitalizzazione dei fiumi. In questo contesto abbiamo una conversazione. Una conversazione in corso con il Ministro dell'Ambiente e il Governo federale dell'India. Il Governo centrale. Questo è perché Covery Calling è stato un enorme successo, nonostante la pandemia. Abbiamo abbassato un po' i nostri obiettivi, pensando che la pandemia potesse ostacolarci. Ma i nostri fantastici volontari. La loro dedizione e impegno. L'entusiasmo degli agricoltori locali. E soprattutto, il sostegno che il Governo statale ha offerto, sotto forma di sussidi per gli agricoltori. e il Dipartimento forestale dello Stato del Karnataka ha fornito un'enorme quantità di erboscelli. Quindi 11 milioni di erboscelli vengono piantati quest'anno in terreni privati. Devi capire questo. Gli agricoltori prendono alberi da legname di alto valore e li portano sul proprio terreno. Ciò significa che sicuramente sopravvivranno. Perché per ogni albero che sopravvive, oltre un periodo di quattro anni, c'è un sussidio. C'è una certa assistenza finanziaria. Detto questo, ho rivolto un appello ai giovani in India che se tre anni della tua vita li dedichi a questa causa, faremo rivivere i fiumi. È stato un grande annuncio. Quindi, un po' più di 300 giovani. Molti di loro si sono dimessi da lavori ben pagati. Alcuni hanno abbandonato un dottorato a metà. Alcuni di loro comunque avevano abbandonato gli studi. Non si adattavano all'università. Cercavano un universo per se stessi. Quindi, oltre 300 di loro hanno dedicato la propria vita a questa causa per tre anni. Ora ho la responsabilità e l'onere solo di non deludere gli agricoltori, ma soprattutto il coveri e le molte organizzazioni mondiali che guardano questo progetto con grande speranza. Perché mai, prima d'ora, è stato fatto qualcosa di simile. Ripetutamente, molti leader di organizzazioni mondiali mi hanno detto Sadguru, se ci riesci con successo sarà una svolta per il mondo tropicale e a sua volta per il mondo intero. Perché, se non lo sai, un albero piantato in terra tropicale è circa sei, otto volte più efficace in termini di sequestro del carbonio e lotta al cambiamento climatico rispetto a quando viene piantato sopra i 33 gradi di latitudine. Quindi lo vedono come un fattore di svolta. Quindi non vogliamo fallire, vogliamo vincere la partita perché non si tratta di noi. Non si tratta di alcuni di noi o di poche centinaia di noi che ci stanno lavorando. E come sai, i contributi per Coveri Colling per questo appello alle 42 rupie per Arboscello quando è stata lanciata sono arrivati da 122 paesi e oltre l'82% di essi non aveva nulla a che fare con Isha come organizzazione. Queste sono semplicemente persone. Quindi questo è il livello di entusiasmo e di fiducia che hanno riposto in noi e soprattutto gli agricoltori perché la loro vita negli ultimi 50 anni non è stata per niente bella. Cioè negli ultimi 22 anni oltre 300.000 agricoltori si sono suicidati. La gente mi chiede Sadguru perché hai intrapreso questa causa? Perché tanto coinvolgimento? Ho detto se 300.000 vite che si suicidano non ti fanno entrare in azione non so cosa non so cos'altro stiamo aspettando forse abbiamo un modo di abituarci a ogni tipo di tragedia per favore comprendi questo abituarsi a una situazione orribile non è trasformazione non è libertà è solo letargia della vita ti sei abituato alle persone che muoiono intorno a te ah va bene muoiono non è per niente che sei spiritualmente evoluto e niente ti tocca no niente ti tocca perché la vita non ti ha toccato la vita dovrebbe toccarti dici lo chiami compleanno va bene nascita significa che la vita ti ha toccato questa è la nascita solo perché la vita ti ha toccato la nascita è avvenuta ora che è successo e tu credi nel festeggiarlo ogni anno facciamone buon uso cover i colli nonostante la pandemia con grande entusiasmo è sul terreno sto mettendo a rischio la vita di questi giovani anche se manteniamo rigidi i protocolli ma comunque sono là fuori a viaggiare e fare delle cose per fortuna nessuno di loro ha contratto l'infezione nessuno è ancora risultato positivo ma per il modo in cui si diffonde chissà comunque mettono a rischio la propria vita e fanno accadere delle cose quindi l'onere è anche mio di assicurare a questi giovani che dedicano tre anni della propria vita che i loro tre anni non vadano sprecati se non possiamo far fare loro qualcosa di più meraviglioso di ciò che avrebbero fatto da sé non abbiamo alcun diritto di chiedere la vita di nessuno quindi in questo contesto ora ho trovato te che vuoi fare qualcosa per il mio compleanno c'è molto da fare quanto di questo ne puoi mandar giù per favore fai quel tanto perché ieri sera ho avuto una chiamata a tarda notte con il comitato di Covery Calling tutti cercano di fare del proprio meglio ma voglio che tu capisca la portata di questo progetto sono 83.000 km quadrati di terra 5,2 milioni di contadini e varie difficoltà e limiti da superare ciò richiede un tipo di situazione ad accelerazione continua e il tempo che ti dà per crescere pianificare e piantare è un processo molto impegnativo la crescita degli erboscelli richiede un minimo di 8 mesi un minimo di 8 mesi fino a 10-11 mesi l'impianto deve avvenire entro due mesi dai monzoni un altro monzone più piccolo che si chiama nord-est avviene un po' più avanti nell'anno ma il periodo vero è solo luglio agosto settembre già 8,3 milioni di erboscelli sono stati prelevati dai coltivatori questa volta il monzone è stato un po' in ritardo quindi erano 11 milioni di erboscelli andranno via molto presto avremmo potuto fare di più ma avevamo dubbi con la pandemia in corso di riuscire ad ispirare davvero le persone a farsi carico di questo perché non potevamo fisicamente andare in molti villaggi come avevamo programmato doveva esserci un tour di ispirazione che avrei dovuto fare nei villaggi di questi due stati che non ho fatto utilizzando in gran parte la tecnologia i gruppi whatsapp e cose del genere stanno ispirando gli agricoltori il che non è una cosa facile da fare ma viene fatta meravigliosamente bene ognuno di voi che ha una qualche preoccupazione per la vita quando festeggi un compleanno significa che hai un qualche senso di celebrazione della vita se hai un qualche senso di celebrazione per ciò che è la vita allora devi fare questo nella misura in cui ti è possibile non sta a me dirti fai così tanto così tanto ma questo deve accadere in modo ricorrente ognuno di voi che siete con noi adesso in questo darshan fate qualcosa un albero al mese cinque alberi dieci alberi cento alberi qualunque sia la tua capacità ma fallo in modo ricorrente non una volta e poi dimentichi perché una cosa è che deve essere nella tua consapevolezza è molto importante 42 rubie negli Stati Uniti non ci puoi comprare niente 60 centesimi non credo che nemmeno il mendicante prenderà 60 centesimi da te metti anche un cartello 5 dollari anche in India con 42 rubie non ci copre più nemmeno un caffè quindi i soldi non sono il problema ciò che è mancato è la preoccupazione e la cura umana come generazione di persone dimostriamo che se sei preoccupato di festeggiare il mio compleanno devi capire il compleanno che è importante compleanno significa inizio della vita sei così ispirato dalla natura della vita perché è tutto ciò che abbiamo potresti pensare di avere molte molte cose hai i tuoi pezzi d'oro ti porti sulla testa adesso hai ricchezza hai conto in banca hai miliardi di dollari no no l'unica cosa che hai è la vita siccome hai la vita fingi di avere tutte queste cose l'unica cosa è davvero l'unica è l'unica cosa che hai è la vita faremo una cosa se non capisci ciò che dico ti togliamo la vita poi goditi i miliardi e il pezzo d'oro sulla tua testa questa è l'unica cosa che abbiamo quindi Covery Calling è una celebrazione impegnata della vita perché senza acqua senza suolo non c'è vita facciamolo accadere se vuoi usare il mio compleanno come come ispirazione mi va bene non mi dispiace festeggiare il compleanno tutti i giorni dell'anno ci siete? davvero perché solo il 3 settembre? se vuoi lo farò anche il 4 anche il 5 anche il 3 dicembre a me a me va bene io sono disposto sto dicendo se tu sei disposto per favore facciamolo accadere è molto importante questo non è il mio lavoro non è il lavoro della fondazione Isha è un lavoro generazionale dobbiamo farlo accadere è molto importante grazie a tutti Grazie a tutti.